nuovo appuntamento con salva un amico siamo al canile di monza insieme a stefania per conoscere capitano arlock esatto oggi siamo qui per presentarvi lui che è un cucciolo fantastico come potete vedere somiglia molto a un bracco anche la codina da davvero il proprio cane da caccia lui è arrivato insieme ad altri cuccioli tramite la nostra rete che abbiamo con altri canili lui arriva dall'empa di gioia tauro è nato con un occhietto non tanto ben sviluppato però diciamo che non gli dà problematiche fisiche lui fa tutto quello che deve fare un cucciolo è appena arrivato qui da noi e adesso stiamo insegnandogli coi volontari a andare al guinzaglio fare tutte le cose per poi prepararlo all'adozione nel migliore dei modi è una taglia piccola crescerà secondo me visto il mix di razze diventerà una taglia media quindi probabilmente intorno alla ventina di chili e sarà un cane bello attivo userà tanto il naso avrà voglia di andare tanto in passeggiata quindi docissimo ma impegnativo come tutti i cuccioli qual è secondo te l'adozione ideale allora noi lo consigliamo anche a persone che non abbiano mai avuto cani l'importante è che appunto ci sia modo di dedicare tanto tempo per uscite passeggiate e per fargli fare tutte le esperienze che un cucciolo dovrebbe fare in modo da farlo crescere equilibrato e docile come tutti i cuccioli è bello vispo allegro e per questo è consigliato anche magari di farsi seguire almeno nella fase iniziale da un esperto allora si potrebbe essere una cosa ottima come ottima in realtà per per tutti i cani l'educatore in realtà poi da dei lavori da fare alla famiglia che deve essere poi devono essere loro stessi a portarli a portarli avanti va bene quindi speriamo che il nostro vivacissimo capitano arlock trovi presto una famiglia con cui crescere insieme per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile chiocciola enpamonza.it